Andiamo al segno dello scorpione, per voi ancora una luna piuttosto problematica, quella nel segno dell'acquario. È una luna che parla di spese da fare per la casa, per i vostri figli, per la famiglia, spese alle quali non potrete sottrarvi, perché c'è qualcosa che va cambiato, qualcosa che va modificato e bisognerà investire dei soldi, del denaro, affinché questi cambiamenti possano avvenire. L'amore comunque vi sostiene sempre in questo momento, con una venere magnifica in transito nel segno del cancro. È una venere ottimista, è una venere anche intraprendente, quella che vi sostiene, quella che vi accompagna e quella che sta per formare degli aspetti molto interessanti anche con Marte nel nostro segno. Quindi preparatevi a vivere un inizio d'estate, le prime settimane dell'estate, davvero bollenti.